Un dossier con le criticità dal punto di vista delle infrastrutture del Comune di Montesilvano è quello che ha consegnato al Presidente della Commissione Infrastrutture del Senato Altero Matteoli il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno che ha anche accompagnato il parlamentare di Forza Italia direttamente sui luoghi raccontati nel dossier primo fra tutti la variante della Statale 16 il cui prolungamento è in cima alla lista l'asse di comunicazione veloce che attualmente termina poco prima di incrociare Via Vestina nei programmi di Anas ha spiegato Matteoli avrebbe dovuto raggiungere almeno Città Sant'Angelo snellendo di molto la circolazione prima e dopo il fiume Saline nei pressi del casello Pescara Nord della 14 proprio il fiume Saline è il secondo punto nel dossier infrastrutture inquinato e pericoloso frena ha detto il Sindaco Maragno lo sviluppo turistico della città oltre ad essere una minaccia ad ogni temporale poi c'è la questione ferrovia la dorsale adriatica attraversa tutta Montesilvano urgono perciò delle barriere fonoassorbenti per rendere meno disagevole la vita dei residenti per quanto riguarda la strada statale 16 parlerò con l'amministratore delegato Ciucci per vedere finalmente di far partire perché se non vado errato tiro a ricordare ma mi sembra che sul piano 2007-2011 questa infrastruttura era sicuramente inserita capire perché nel 2014 ancora non è partita Sappiamo che la situazione in questo momento in Italia è molto complicata però semplicemente vogliamo esprimere tutta la nostra volontà per cercare di risolvere il problema